Viva, viva è la notte di Natale, viva, viva Natto è il buon Gesù Gesù, tanta gioia e tanto amore dentro il cuore, da dividere con mamma e papà. Quest'oggi ci troviamo a Cesolo, a San Severino Marche, qui accanto a me la signora Angela e sua nipote Elisa, con cui parliamo appunto di questo allestimento che vedete alle nostre spalle, un presepe iniziato tanti anni fa. Elisa, vogliamo raccontare un po' la storia e com'è nata l'idea di tua nonna di iniziare a lavorare su questo progetto? Ma certamente, allora, questo presepe è nato come diciamo una passione familiare. All'inizio mia nonna non lo realizzava con dei meccanismi in movimento, ma era interamente con, diciamo, dei figuranti stabili. E abbiamo iniziato all'incirca nel 2006-2007 e ricordo come uno dei momenti più belli della mia vita, soprattutto il Natale. Oltre ai regali, io ricordo me, mia nonna e tutta la mia famiglia mentre facevamo, preparavamo, insomma, questo presepe così bello. Abbiamo iniziato quasi per gioco, partecipavamo al concorso dei presepi realizzato a Cesolo, dal comitato della comunità di Cesolo, insomma. E poi successivamente mia nonna è sempre stata un'amante dei meccanismi, diciamo, della meccanica. E così ha iniziato sempre per gioco a creare questo presepe in movimento. Un presepe questo che noi vi stiamo mostrando in anteprima perché sarà aperto ufficialmente il prossimo 22 dicembre, proprio a ridosso delle feste di Natale. Allora, signora Angela, quanto lavoro c'è dietro quello che noi stiamo mostrando a chi ci sta guardando? Lavoro è tanto, però con la passione che ho non mi pesa lavorare. Ecco, come mai invece di fare altro, diciamo, ha scelto di allestire un presepe da far vedere ai concittadini settempedani, ma non solo? Perché lo ricordiamo che, come diceva poco fa Elisa, è aperto a tutti. Sì, è aperto a tutti perché mi piace farlo vedere, perché è una cosa realizzata da me, con tutta roba riciclata e la mia passione. Tanti personaggi, tanti figuranti, quanto tempo ci si impiega a farle? Uno, ad esempio, di quelli più semplici? Uno di quelli più semplici è due giorni, perché dopo non faccio solo quello, dovrò cucinare, lavare e altre cose. Fatto con prodotti di reciclo, quali sono quelli che usa di più? Ma quelli che si usano di più sono i motorini dei forni, delle lavatrici e anche dei forni. Un presepe è questo, aperto durante il periodo delle feste, per una lodevole causa, in quanto anche chi viene a visitarlo può lasciare una piccola offerta. Sì, siamo molto gradi. Se qualcuno lascia l'offerta, poi all'ultimo si deciderà dove mandarle.